C'era una volta il volantino Labro Sur per pubblicizzare un luogo di interesse al turista o al visitatore di turno. Oggi con le nuove tecnologie a disposizione si cambia e l'occasione la possono sfruttare soprattutto i piccoli centri della provincia. È quello che sta facendo il comune di Affile con il progetto Artura Tecnologia per l'arte e la natura. Attraverso il cellulare, uno smartphone o un computer, l'utente potrà costruirsi il suo itinerario, progettato su esigenze di cultura, interessi e necessità particolari. Un'applicazione per promuovere piccole realtà che non avendo gli stessi mezzi delle grandi città d'arte italiane sono spesso costrette a tenere nascoste le loro bellezze. Un servizio spiega il presidente Zingaretti alla portata di tutti. Affile nasce una sperimentazione per cui dal telefono cellulare io posso sapere la storia del comune, peraltro i luoghi, non so se sarà previsto, enogastronomici del posto, la promozione territoriale, la storia delle chiese e quindi un servizio che possono avere tutti.